Sì, ovviamente non ci sarà il mercato del 25, il giorno di Natale e del primo del Capodanno per il rispetto delle festività, ma recupereremo queste date. Il mercato dei produttori agricoli sarà domani mattina, quindi il 24, il giorno della vigilia, mentre il mercato cittadino si terrà nella giornata di domenica 29. Quindi domenica 29 è questo bellissimo mercato che darà la possibilità ai turisti, ai fanesi, alle persone del territorio, o comunque di visitare la città in questo periodo di Natale perché rimarranno aperte comunque tutte le attrazioni come presepi di sabbia, come la pista del ghiaccio e le altre attività. Ma siamo a metà strada, sì, un anno sempre intenso perché l'evolversi di così tante attività, voglio dire, molto importante, quindi un lavoro importante da parte di tutte le associazioni, gli enti che ci hanno sopportato, che ne approfitto per ringraziarli e per fargli gli auguri di Buon Natale, così come tutti i cittadini, un Natale di grande sforzo ma per dare il supporto al commercio, al nostro territorio, al commercio e al turismo in un periodo veramente molto delicato in cui questo soffre e quindi ce la stiamo mettendo tutta proprio per quel motivo.